Traa, il cristallo della verità, cuore di Traa e fonte di vita di ogni creatura. Il cristallo della verità è stato danneggiato. L'oscurità si sta diffondendo su Traa. Che cos'è l'oscurità? Osserva. Madre! Ho avuto una visione! Leggi troppe favole. No, era reale! Gli Skeksis ci hanno imbrogliati! Ora ogni creatura, noi compresi, è in pericolo. Ribelliamoci e combattete con noi contro gli Skeksis! Noi siamo eterni! Si sta formando una resistenza. Sei sicuro di quello che fai? No. Ma ho una speranza. Ora dovete tutti ammirare il potere dell'oscurità! La speranza è fragile. È preziosa. La speranza accende la luce. Che rischiara il buio. Rivelando il vostro destino. Non credo che le cose torneranno come prima, Rian. No. Saranno migliori. Rian. La speranza. O'